Allora, vi facciamo raccontare il nostro videoblog del giorno undici da nostra amica inglese, così non capite un cazzo Adesso, se non l'avete capito andate su Google Translate e capite tutto voi Comunque, una giornata di merda, però è andata bene e ce l'abbiamo fatta Quella è Marco, un coglione, fa lo scemo in moto Adesso gli do più dritte io, se no qua Ciao a tutti